Ciao a tutti, anche oggi voglio fare un video di riflessione su un fenomeno di YouTube perché di fatto YouTube offre in effetti molti spunti di riflessione a ben guardare perché di fatto è un social molto seguito, soprattutto da giovani e quindi a me ha fatto riflettere molto questo fenomeno del beauty guru già il termine beauty guru a me un po' inquieta nel senso, che cosa significa? Cioè, chi è che decide che in un certo momento una persona diventa una beauty guru? Come si fa a definirsi beauty guru? Cioè, è una definizione così, secondo me, molto molto vaga che dietro di per sé non ha nulla di concreto è solo magari il fatto che una persona ha la fortuna di trovare magari in un certo momento un certo seguito di follower che quindi la seguono e acclamano ogni cosa che questa persona dice o fa e quindi sono pronti a seguire ogni sua parola, ogni suo consiglio alla cieca e quindi, secondo me, questo porta quindi la comunità a riconoscere che quella persona, quello YouTuber diventa un beauty guru non ha più di guru però, di per sé, no? a me sembra tutta questa cosa veramente molto poco concreta cioè, dietro a questa definizione non c'è nulla di concreto sì, c'è qualche video, il lavoro che c'è dietro a un video ma, tecnicamente, materialmente, io non vedo nulla di concreto quindi è, diciamo, una fama, un successo che arriva all'improvviso, no? che però a me spaventa nel senso che, così come arriva all'improvviso e così come appunto non è qualcosa di materiale dietro non c'è qualcosa comunque di concreto un titolo, un riconoscimento ufficiale può quindi sparire anche all'improvviso, secondo me perché, di fatto, la volontà, il gusto del pubblico è qualcosa di molto volubile cioè, oggi ti amano ma basta che fai un passo falso e domani non ti amano più e si sa che quando poi qualcuno inizia a fare una cosa tutti lo seguono quindi se qualcuno, non so, dice qualcosa di sbagliato e viene quindi attaccato sempre più gente lo attaccherà perché si crea appunto questa catena e infatti a me ha fatto molto, per esempio, riflettere da poco, sono andata a vedere il film è solo tornato quello su Mussolini che fino a un certo punto Mussolini era acclamato da tutti tutti lo volevano, tutti lo cercavano tutti gli scavano dietro poi a un certo punto un giorno uccide un cane e questo filmato lo vedono tutti in televisione all'improvviso, da quel momento in poi tutti invece lo odiano tutti lo detestano tutti non lo vogliono più e questo è emblematico perché in effetti fa capire come la gente ti segue e segue appunto magari la massa però a un certo punto basta poco che non ti seguono più quindi ora mi sono fatta degli appunti perché stamattina ho buttato giù qualche idea un'altra riflessione che mi viene a proposito appunto di questo lavoro di beauty guru di tra virgolette esperte di make up di vita perché appunto sembra che quello che dicono queste persone sia oro colato ma si può veramente considerare come il lavoro della vita cioè quello che faccio oggi per poter comunque poi stare bene anche dopo quando sarò vecchio e non potrò più lavorare cioè non lo so perché io lo vedo proprio come qualcosa che può durare qualche anno ma non può durare per sempre e proprio perché i social di per sé sono una moda secondo me e quindi come le mode passano quindi ciò che oggi è popolare è seguito su un social tra qualche anno ma molto pochi anni molto brevemente a breve magari non sarà più così passerà di moda arriverà un luogo social e quindi non lo so io non resto a vederlo proprio come il lavoro della vita ed è anche molto pericoloso secondo me inquietante quasi vedere proprio gli adolescenti perché sono appunto comunque di fatto loro quelli che più che altro appunto idolatrano questi video guru questi youtuber che appunto stanno lì proprio in adorazione basta leggere appunto i commenti e quindi idolatrano queste ragazze che di fatto fino a un anno fa magari erano sconosciute e comunque sono ragazze normalissime che magari non hanno nemmeno competenze tecniche non hanno studiato non hanno fatto quindi scuole particolari in questo settore e che quindi niente iniziano a fare questi video si atteggiano da esperte e ingannano secondo me perché una cosa appunto che mi fa riflettere è ma davvero il fatto comunque di vedere che queste persone ricevano mille prodotti gratis che abbiano tutte queste grande quantità mole di trucchi ce ne fa sembrare veramente migliori di noi che dobbiamo per forza appunto sentire quello che dicono e seguire quello che dicono cioè a me questa cosa proprio inquieta perché quello secondo me non è un successo una forma di successo il fatto comunque di ricevere appunto questi prodotti gratis che vedo comunque nei commenti qualcosa che viene comunque invidiato per me non è invece un tipo di di successo e perché questi ragazzini chiedono consiglio a queste ragazze a questi ragazzi piuttosto che a un vero esperto che magari non fa video su youtube tipo un medico perché appunto gli chiedono consigli anche di alimentazione su problemi di salute sul fitness e lo trovo veramente molto molto sbagliato e pericoloso perché appunto non sono esperti il più delle volte non sono esperti queste ragazze magari dicono cose solo per pubblicizzare prodotti o comunque cose che gli vengono comunque proposte di pubblicizzare che gli vengono proposte di pubblicizzare ma senza nessuna conoscenza delle cose delle cose alle spalle basta vedere il boom di prodotti iperproteici che pubblicizzano prodotti appunto che se non assunti con un controllo medico con comunque un consiglio anche da parte del proprio medico possono essere anche vericolosi ma non lo sanno così come non lo so nemmeno io perché non sono un'esperta quindi secondo me tutto questo successo che sembra appunto travolgere queste beauty guru è un successo molto molto effimero basta guardare infatti che comunque io comunque sono cresciuta già non riesco più a seguire quelli youtuber che magari seguivo con più attenzioni magari anche un paio di anni fa ma ormai mi hanno stancato infatti non guardo più tutti i loro video ogni tanto perché le comincio a vedere appunto a considerare appunto scontate ovvie e molto prevedibili perché appunto non e comunque inizio appunto a vedere che comunque non hanno grandi abilità nel fare quello che vorrebbero invece farci vedere appunto essere esperte nel fare che non hanno appunto certe conoscenze e quindi io le considero veramente false a volte e quindi c'è l'impressione poi da questo appunto successo che travolge queste ragazze che di fatto si possa ottenere questo successo senza la fatica senza bisogno comunque di studiare particolarmente senza impegnarsi particolarmente a migliorarsi comunque ad aumentare le proprie capacità le proprie abilità per trovare appunto un lavoro sembra quasi appunto stupido cercare un lavoro vero perché è molto più semplice stare a casa fare video ottenere soldi e ottenere prodotti gratis e sono questi i nuovi miti dei ragazzi e a me questa cosa sinceramente spaventa e non piace non piace assolutamente e io non considero quello della beauty guru della youtube un lavoro nel vero senso della parola perché i social sono troppo passeggeri e secondo me con il passare poi degli anni chi investe così tanto sulla propria bellezza sul proprio aspetto non potrà far durare questa cosa per sempre perché inevitabilmente il corpo cambia le situazioni cambiano non sarà più sempre una giovane ragazza e poi quando inizieranno a diminuire i seguaci gli iscritti inizierà un po' un declino poi come farai a trovare un lavoro vero? non lo so oggi mi andava di condividere con voi queste mie impressioni su questo mondo perché a me da da pensare da da pensare il fatto che questi personaggi possano essere appunto dei miti degli idoli da seguire invece che appunto che magari chi è più nascosto è meno famoso magari sui social ma che si impegna molto in quello che fa fatemi sapere insomma se anche voi che avevano i miei appunti se anche voi la pensate come me e se anche voi avete appunto queste impressioni io vi ricordo che sotto trovate i link per seguirmi su tutti i social soprattutto appunto su Instagram e niente noi ci vediamo al prossimo video ciao